Che valutazione fa delle primarie del PD? Si dice un dimezzamento ad esempio degli elettori. È logico che non va a votare più nessuno se vincono sempre gli uomini di Renzi. A Trieste addirittura a me risulta che abbiano messo due renziani per evitare che perdesse un renziano. È chiaro che se le persone che sponsorizza Renzi vincono sempre le primarie, i cittadini non vanno più a votare alle primarie. Fermo restando che questa volta dobbiamo ancora aspettare lo scorporo del voto cinese e del voto rom a loro. Grazie.